Gente Comune, quindi, che appello fa agli elettori genovesi? Il primo appello è, elettori genovesi, andiamo a votare. È un diritto, è un dovere, è stato conquistato con lotte e grandissima fatica da parte dei nostri padri e nonni. Il fatto di non andarci non migliora la situazione, anzi dà ancora maggiore voce a chi più motivato andrà a votare e finirà per votare sempre le solite facce, sempre le solite cose. Questo è il primo appello di Gente Comune. Il secondo è, attenzione, il nostro è veramente un voto utile. Noi siamo un'associazione di volontariato, ci conoscete forse per le imprese che abbiamo fatto in questi anni e che vogliamo continuare a fare nel piccolo e nel grande, perché abbiamo anche sogni, abbiamo anche progetti nel futuro di Genova e questo senza mettere mai le mani nelle tasche dei cittadini, anzi sposando tutto quello che è rigore, intelligenza, risparmio, reperimento di nuove risorse che prescindano dal fatto di tassare i cittadini, come sta facendo invece questo governo che tra l'altro ha alle spalle gli stessi partiti che qui a Genova spalleggiano i partiti principali. Se vogliamo veramente cambiare, ragazzi, Gente Comune è veramente la soluzione.